C'è stato un momento che ho creduto davvero fosse finita per te. Ti ho visto disarmato di fronte a un gallo alto come una montagna. Avrei voluto trarti d'impaccio e portare il mio credito a mille sesterzi giusti, ma avevo il mio da fare. Come te la sei cavata, di? Un mio colpo segreto. In battaglia può sempre accadere di trovarsi senza spada di fronte a un nemico che ce l'ha e in tal caso si è spacciati senza il mio colpo segreto. Bell'amico che sei, e perché non me l'hai insegnato? Lo faccio adesso. Ecco, prendi la spada. Su, colpiscimi. Che ne dici? Accidenti, ti ricalci come un mulo per Giove. Credevo mi avessi staccato la testa. Vedi, quando un avversario ha di fronte uno senza spada, non usa alcuna prudenza. Si sente sicuro e fa come hai fatto tu. Un passo avanti e un po' di quello lo si debba uccidere personalmente. Certe cose vanno risolte in famiglia. Prendetelo. Avvisate la guardia. Chiudete e cancelli. Si. Nu. Sì. Sì. Grazie a tutti.